Musica 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 Subaroporta a Porta Ginevra due importantissime novità più una diciamo Sicuramente Autodec è la vettura più attuale lanciata da qualche giorno sul mercato italiano ha avuto un ottimo riscontro dal pubblico in quanto l'open weekend che abbiamo appena effettuato è stato un open weekend di successo la gente ha apprezzato soprattutto il design ha apprezzato la linea ha apprezzato tutto quello che sono anche e soprattutto i contenuti della vettura è una macchina sostanzialmente totalmente rivista dalla versione precedente naturalmente il DNA è rimasto quello della vettura prima di questa appunto quindi trazione integrale, motore boxer può essere proposta in due versioni 2000 diesel e 2005 benzina quindi di conseguenza tutte le peculiarità più importanti della vettura precedente sono state riproposte per questa vettura che però naturalmente è stata rivista per aumentare il comfort della vettura per diminuire i consumi ma soprattutto affinché la vettura sia una vettura molto più fruibile rispetto a quella precedente per fare questo i tecnici di nostra casa madre ci sono basati soprattutto dalle informazioni che venivano dai clienti precedenti voglio dire da coloro che avevano in qualche modo approcciato il nostro brand avevano scelto la nostra vettura la nostra auto precedente cercando di catturare quelle che erano le necessità per un nuovo prodotto e da questo poi è scatturalito appunto la vettura che oggi vediamo esposta qui al salone la seconda novità che se vogliamo forse è anche la prima novità in quanto la vedremo solamente alla fine dell'anno nel mercato europeo e anche naturalmente nel mercato italiano rappresentata dalla Levorg Levorg è l'acronimo di Legacy Evolution Touring è una vettura che in qualche modo prende il posto della Legacy precedente Station Vega precedente che casa madre ha deciso di produrre solamente per il mercato americano nella versione quattro porte nella versione sedan ora questa vettura naturalmente si propone in maniera differente da quello che era Legacy Station Vega precedente in quanto si vuole dare una connotazione ben precisa una connotazione molto più sportiva molto più dinamica a quello che era il prodotto Station Vega di prima non a caso per un perfetto bilanciamento di questa filosofia che è stato adottato un motore 1.6 benzina in iniezione diretta turbo la quale motorizzazione siamo convinti possa dare il massimo in termini di performance unite quelle che sono poi le necessità dell'utente che approccia a questa vettura l'altra novità anche se in tono leggermente inferiore è rappresentata dalla Forest Diesel con il cambio automatico vuol dire il nostro Lineatronic anche qui è un prodotto che per il nostro mercato è sicuramente un prodotto molto interessante ancora una volta facciamo le cose in maniera diversa rispetto ai nostri competitors quindi il cambio Lineatronic vado a dire variazione continua viene proposto ora con la motorizzazione diesel appunto per il nostro SUV è un prodotto che aspettavamo un prodotto che soprattutto i nostri dealer stavano aspettando e quindi di conseguenza adesso pensiamo di avere una gamma assolutamente completa in termini per quanto riguarda sia le motorizzazioni ma anche la proposta dei cambi automatici grazie a tutti